18 appuntamenti, tutti a base di note raffinate e sound ricercati, in location altrettanto suggestive. L'Umbra Judge Festival è pronto nuovamente a stupire, con un fitto calendario che per questa edizione punta sul colore verde, sinonimo di mobilità dolce e turismo sostenibile, come chiarito dall'anima della Kermessa Giovanni Busetto. L'idea di quest'anno è il vivere lento, la sostenibilità sia da parte del turismo che anche da parte dell'offerta musicale. Avremo concerti in bicicletta, questo progetto che parte da Benevento per andare a Oslo, musicista Luca Quino percorrerà tutta l'Italia e la Valtellina con due concerti, uno d'Ardenno e uno a Poschiavo e ci porterà anche questo bellissimo patrocinio dell'UNESCO che è la vera novità di quest'anno. Non cambia invece l'intento di proporre ogni concerto in un luogo particolarmente affascinante, spesso e volentieri a contatto con la natura. Tra questi anche la nuova location di Scarpatetti o la più inodata centrale Enel di Piateda. Noi cerchiamo sempre di individuare luoghi storici perché il legame col territorio è fondamentale. Ogni anno siamo premiati da nuovi comuni, infatti quest'anno abbiamo Ardenno, Verbenno e anche Castello dell'Acqua, dove a Castello invece faremo un progetto a piedi dove in collaborazione con più segni positivi organizzeremo questo concerto il 16 luglio, la domenica pomeriggio, sarà una bella giornata di camminata e di solidarietà visto che più segni positivi fa questi progetti facendo lavorare esodati, perciò danno anche dignità e lavoro alle persone con difficoltà. Un tour che non tocca solo la Valtellina. In Poschiavo, anche il secondo anno, porteremo il progetto di Luca Quino all'European Jazz Tour perché dopo di Ardenno ripeterà il concerto in duo a Poschiavo alla Casa Gay, che è una delle case spagnole che ci sono in Poschiavo, nei giardini, per la rassegna giardini incantati organizzata dalla Poschiavo Turismo. Il calendario si aprirà ufficialmente il 6 luglio a Castione and Evenno con il quartetto statunitense Alex Levine Quartet, ospite stamane nella conferenza stampa, ma ci sarà occasione di gustare una piccola anteprima già domenica 2 luglio a Boffetto, presso l'ostello Gucciardi.